Allora, ciao, io sono Marco, sono un pellegrino di Amsterdam, nella Olanda. Sono partito da Besançon perché ricercavo un po' le risposte alle questioni, alle dimande un po' più grandi della vita e dopo una settimana l'ho trovato e adesso cammino giusto per divertirmi. Io parto sempre dal perennaggio con le dimande, come ho detto, avanti. La Via Francigena, l'iperrenaggio, infatti, mi fa vedere sempre che relativizzare un po' queste cose, che sembrano grandissime, però alla fine non so. Adesso mi fa il perennaggio per me, mi tranquillizza, mi permette di relativizzare la mia vita, prendere la distanza del mio stesso, quella che più è la cosa, è camminare per me, veramente è camminare, si muove. La Via Francigena